Casa Sanremo è musica in movimento, ho il piacere e l'emozione, io non immaginavo di riuscire in questa impresa titanica perché ai nostri microfoni c'è Umberto Labozzetta Ciao, però forse i tuoi ascoltatori o radioascoltatori non sanno chi sono al di là del fatto che io possa essere una persona che si occupa di musica, che si occupa di eventi che tra l'altro ha origini calabresi, si sente? Poco poco, no sai, ripercorrere il tuo curriculum sarebbe riduttivo invece io con te voglio parlare di musica in fermento la musica è un linguaggio universale che unisce sempre, questo è vero ne hai fatto una missione di vita, hai scoperto tante cose, hai vissuto tante cose e vivi il festival da tantissimo tempo una chicca, un aneddoto, una curiosità per gli amici di RLB Tanti festival, quello che mi ricordo di... tutti li ricordo con piacere però in realtà l'anno in cui si vinse il festival con Elisa rimane forse uno dei momenti più importanti della mia carriera di promoter anche perché Elisa ci affacciava per la prima volta ad essere conosciuta a livello nazionale per un pubblico molto più vasto e quindi l'idea di poter addirittura vincere con luce Sanremo è stata un'esperienza bellissima da raccontare, vissuta intensamente anche con grandi difficoltà ovviamente, però è stato bellissimo ma anche quello successivo perché l'anno dopo ci si è ripetuti con gli Avion Travel l'insperata vittoria del festival di Sanremo quindi in realtà oggi, quest'anno non ho volutamente sono qui da osservatore neutrale ammirando praticamente chi vi partecipa perché sono delle canzoni molto interessanti le ho ascoltate tutte sia dal vivo che prima ancora che in qualche modo fossero realizzate sul teatro e devo dire che ce ne sono almeno 4-5 secondo me di livello elevato e quindi sono proprio curioso di vedere tra l'altro chi vince anche se 2-3 tra gli artisti che si sono presentati quest'anno sono tra i miei favoriti quindi vediamo un po' se come al solito penso di aver azzeccato qual possa essere il vincitore finale in più Sanremo come tu prima hai detto una cosa molto interessante che vivi questo festival da qualche anno e lo vivi come se fosse un circo in realtà è un circo, un circo mediatico perché tu hai nell'arco della settimana una visibilità chiunque esso sia un addetto ai lavori, un cantante, un promoter o solo un giornalista ha una visibilità esposta che praticamente tu non avresti mai nell'arco di un anno e quindi come dire un circo mediatico è assolutamente questo quello di poter riproporre poi a livello diciamo così molto più ampio un evento musicale che di fatto è un evento musicale come tanti altri solo che non si sa perché c'è questa magia pazzesca che riesce in qualche modo a condizionare i gusti e l'attenzione degli italiani e tu sei una di queste perché sei qui con la tua radio a lavorare con impegno andando in giro per tutta la settimana e ti assicuro che so esattamente qual è il tuo lavoro e so esattamente qual è il tuo impegno quindi il circo mediatico è importante anche perché con questo tu riesci a trasferire ai tuoi radioascoltatori la possibilità di viverlo da dietro le quinte cosa che magari loro non fanno perché sono lì davanti alla televisione a guardare praticamente quello che la televisione gli propina invece tu gli fai vivere magari le cose più divertenti o comunque le cose che non vengono in qualche modo elencate o raccontate durante l'arco della giornata mi hai sfondato il cuore ti ringrazio e ti chiedo un saluto per tutti gli amici di RLB Radioattiva Radio LB Radioattiva io la conoscevo perché siccome non sono più un giovanissimo ma questa è una radio che conosco da molti anni e quindi non posso che fare al nuovo editore a tutti gli ascoltatori che spero, mi auguro, siano tantissimi poi se ci sei tu non ho dubbi che questo è quello che accade un in bocca al lupo e spero di sentirvi presto e soprattutto ti farò fare, questo te lo prometto io ho un artista tra i tanti che sto seguendo ce n'è uno a cui tengo particolarmente in questo momento che è Jack Savoretti io spero che tu lo conosca è un artista su cui ho puntato due anni e mezzo fa e stiamo ottenendo a livello mondiale in questo momento dei risultati estremamente eclatanti ti do una chicca in anteprima per i tuoi ascoltatori lui ha scritto un brano per Elisa nel nuovo album di Elisa questo non lo sa nessuno, lo sai tu e i tuoi ascoltatori e te lo dico nel nuovo album di Elisa c'è un duetto tra Elisa e Jack Savoretti e lo abbiamo svelato, sei la prima a saperlo grazie, buona musica